Ciao ragazzi sono Nino Crudele MVP su Bitstock server da sei anni lavoro su Bitstock da tanti anni è la prima volta che trovo un prodotto come Bitstock 360 che è un prodotto Bitstock veramente molto utile per poter gestire Bitstock nel miglior modo. Bitstock è un prodotto estremamente complicato richiede molta attenzione e richiede una conoscenza molto profonda di tutta la sua infrastruttura. Con Bitstock 360 è possibile riuscire a manutenere tutta l'infrastruttura Bitstock in modo estremamente semplice senza alcuna esperienza sul prodotto Bitstock. Vi consiglio assolutamente di provare Bitstock 360 e per questo andate sul sito bitstock360.com Ciao a tutti ragazzi